mangia e bevi tanta frutta in allegria Acquista mangia e bevi e scopri qual è il personaggio stampato all'interno delle confezioni Se hai trovato Jerry, spediscilo insieme alla cartolina che trovi nella videocassetta e riceverai a casa tua uno dei premi in paglia Ma se hai trovato altre immagini, partecipa comunque all'estrazione di altri magici premi spedendo solo 3 confezioni mangia e bevi o solo la cartolina che hai trovato nella videocassetta In paglio per te ci sono 6 vacanze Eurotravel in agriturismo più 200 giochi per pc Il gioco è cominciato, non fartelo scappare